...i probabilmente più forti, però come lui, perché abbiamo visto Dorsi in campo e nella panchina della formazione greca siede anche... ...sono cinque per lui e attenzione, sorpasso Olimpiakos che si è un po' destata tra Tecnici e Giacervicius... Sì, sì, ma c'è stato, ma è giusto che ci sia... ...unesima bomba. Sì, sì, ma 16 punti. È la sua seconda. Due su sei da tre. Attenzione, questa è pane per Giacervicius. ...sono i tre punti rispetto alle precedenti esibizioni, un bottino molto... ...e ancora Giacervicius da tre. No, 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 da due. Ancora Spanulis. Rivaldamento, Princesa, Giacervicius. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Diciamo che la Dinamo deve capire... ...questo ne acquisto, giocatore serissimo. Tre scudetti a Siena, tre Final Four. Per lui in carriera, secondo quintetto di Eurolega nel 2008. Compagno di Travis Diener, proprio nel 2008. Assieme conquistarono le Final Four. Ancora, mamma mia! Non fate...